No, guardi, a me il ballo moderno, no, non è il caso, non è il mio genere. Per carità, non c'è il contatto. 31 luglio 1920. Nasce a Milano Franca Norsa, in arte Franca Valéry, in omaggio al poeta francese Paul Valéry. Attrice, sceneggiatrice, autrice e regista, è negli anni 50, dai microfoni della radio, la signorina snob. Caustica, osservatrice del mondo, regala al pubblico una variegata galleria di ritratti di donne contemporanee. Dalla Cesira, manicure milanese vagamente razzista e permalosa, condannata a perenni fallimenti sentimentali, alla Sora Ceccioni, romana sempre al telefono con mamma. Muore a Roma nel 2020, pochi giorni dopo aver festeggiato il suo centesimo compleanno. Pronto mamma, aiuto? Giovanni ha telefonato che mi porta a casa c'è nel capo ufficio. Che ti è capitato pure a te?